Per iniziare il video voglio salutare una nuova iscritta che si è iscritta al mio canale, ovvero la 360esima iscritta di oggi, Stella Gentile. E' strano però, chi è a quest'ora? Ma questo che cos'è? Oddio! Sono accese le luci. Ma che cos'è questo? Per Francesco Angelillo! Mi sta il mio nome! Oddio! Per Francesco Angelillo da parte di F.P. Chi è questo F.P.? Ma... Qua sta un cuore. Oddio! Sarà meglio che questo lo porto dentro. Oddio ragazzi, guardate attentamente che cos'è successo. Questo qui è un scrigno del tesoro. Ma c'è scritto pure il mio nome da parte di questo F.P. Ma chi è F.P.? Non lo so, forse intende F.P.2. Ma dai, gli F.P.2. Non possono mandare questa lettera. Che sono mascherine. E questo è un piccolo cuore con su scritto I love you. Ragazzi, qua sta una chiave. Meglio aprire questo tesoro magico. Ragazzi, ho aperto. Ora adesso apro lo scrigno tra 3, 2, 1... Ecco ragazzi, l'ho aperto e vi farò vedere tutto tra 3, 2, 1... Oh mio Dio! Oddio! Una lettera! Caro Francesco, io sono F.P. Ma sta pure la firma della prima lettera. Io sono F.P. Il tuo nuovo fratellino. Ho ricevuto un fratellino. E io e te giocheremo insieme. Oddio! Chi è questo F.P.? Io dico... Ah! È lui F.P. Ma è un... È solo una... È solo un semplice bambolotto a peluche. Ciao! Oddio! Ha parlato! F.P. Ha parlato! Oddio! Ciao! Oddio! F.P. Ha parlato! Oddio! Facciamo vedere adesso F.P. In persona! Oh, essa! Eccolo qui! Questo è F.P. Il mio nuovo fratellino. È bellissimo! È un ciuffo biondo! Gli occhi azzurri! Ciao! Francesco Ancerillo! Ma sai il mio nome? È il mio cognome! Sì, giocheremo insieme! Oddio! Io mi sedo qui! Oddio! Oddio ragazzi! Ma guarda che cosa mi ha mandato! Oddio! Questo... Questo è un piccolo... Ma questo è filmic missile! È un piccolo filmic missile a portachiavi! Quello è il peluche dove dormono stanotte! Quello è il peluche del piccolo F.P. Che dorme stanotte! E poi vediamo cosa c'è! Ma è una pizza questa! Ma... Ma è finta! È una pizza di ceramica! È la mia cena! Oddio! Ma è la cena di F.P. questo? Ma... Questo... È il giochino di F.P. Oddio! È il giochino di F.P. questo? Non ci posso credere! E poi... Questa è una tovaglia! È la tovaglia dove deve mangiare F.P. Oddio ragazzi! Quindi... Un estraneo che si chiama F.P. Mi ha mandato... Questo scrigno dove all'interno stanno questi... Cinque cimeli! E... Io non capisco... Chi è questo F.P. Aspè ora ho capito! F sta dall'inizio della mia lettera! Francesco! Mentre P significa peluche! Quindi allora il tuo vero nome si chiama Francesco il peluche? Sì! Continua! 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 Grazie.